Capra, 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 capra. Quello che non resta di scanzi dice come sempre delle cose senza senso. Ho scritto la tragica verità, che lui è lo 04, lo 04, con degli ascolti così bassi che nessuno lo ricorda e nessuno lo vede. Il dato vero è questo, lo hanno spostato in un altro orario per farlo vedere da quattro che dormono. Questa è la verità assoluta, nulla da sventire. Il dato è 04, quello che non resta di scanzi, un morticino profumato, un morticino con le cremine e con l'abbronzatura della lampada che nessuno caga e nessuno conosce e nessuno guarda. Lo 04, quello che non resta di scarsi, nulla, un morticino. Capra, 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 capra. Vai Vittorio! Vittorio, una da noi per piacere. Vittorio, una foto. Vai, questo qui.